Barletta, zona sette frati, degrado, incurie e abbandono sono le parole con le quali si può descrivere un intero quartiere della città letteralmente abbandonato a se stesso. La situazione è ancora più preoccupante se si pensa che si tratta di un quartiere centrale di Barletta a cuore e di attività commerciali di servizio al cittadino per meglio capire zona del vecchio ospedale cittadino. In realtà denunciano i residenti che si sentono abbandonati dalle forze dell'ordine e dall'amministrazione comunale pare di trovarsi oltre la più buia periferia. Per vedere apparire all'orizzonte una pattuglia di polizia di Stato, carabinieri o polizia urbana è necessario che si verifichi una rissa o atti vandalici come quello che si è verificato ieri quando i gnoti hanno divelto i pali per l'illuminazione della festa parrocchiale mettendo a rischio l'incolumità pubblica su una piazzetta affollata. Quello che affligge i cittadini di tutta la zona è l'assoluta mancanza di controllo da parte degli organi preposti, mancanza di sicurezza e non crescendo di malvivenza. Sotto gli occhi di tutti quello che si verifica per strada, imbarba a leggi e ordinanze sindacali. Sotto gli occhi di tutti appunto. Ma si sa dove i gatti mancano, i topi ballano. Manca infatti vigilanza, i cittadini insorgono poiché le tasse oltretutto le pagano salate essendo zona residenziale. Di qui l'appello accorato al prefetto, al sindaco e alla giunta tutta nonché alle forze dell'ordine affinché si predisponga un servizio ad hoc di controllo del territorio che garantisca la sicurezza che i cittadini invocano con forza essendo un loro diritto e che riporti ordine e tranquillità in un quartiere centrale della città dove sta diventando davvero difficile vivere. I residenti sono sul piede di guerra non potendo più sopportare questa difficile situazione già pronti, competizioni e risposte in procura.